Ci sono dei rumor che stanno mandando in fibrillazione la maggior parte dei cripto investitori, infatti si vocifiera che BlackRock, Fidelity e altre istituzioni stanno accumulando milioni in ETH prima di una possibile approvazione degli ETF, replica spot da parte della SEC. Hi guys, qui è Ryan, il vostro cripto analista di fiducia e in questo video andremo a vedere cosa sta succedendo. Ci sono un sacco di novità dal punto di vista dell'inflow, soprattutto per quanto riguarda VanEck, infatti dopo un enorme taglio fatto alle commissioni è passato in terza posizione dietro soltanto a BlackRock per AUM, ovvero capitali sotto amministrazione dello strumento replica spot su Bitcoin. Inoltre andremo a vedere cosa sta succedendo sul mercato delle criptovalute, infatti passiamo immediatamente con un grafico che vuole prendere in considerazione i due scorsi cicli di albing con quello che sta succedendo a breve. Infatti sapete benissimo che manca pochissimi giorni per il prossimo albing, vediamo che manca soltanto 64 giorni, infatti l'albing date è stato stimato per il 26 aprile 2024 e infatti volevo prendere in considerazione con voi questo grafico sul comportamento pre e subito post albing al prezzo di Bitcoin. Possiamo vedere che nello scorso ciclo di albing, proprio prima l'albing, l'avvento dell'albing abbiamo assistito ad un flash crash che poi è stato subito recuperato. È anche vero che era un cigno nero che ha devastato tutti i mercati, non soltanto Bitcoin, infatti stavamo parlando dell'annuncio del blocco globale dovuto al Covid-19, alla pandemia di Covid-19, però ovviamente dopo aver recuperato tutto questo livello poi abbiamo assistito ad una fase di stazionalità nella zona rossa, ciò vuol dire la fase post albing. Ragazzi attenzione perché o pre o post albing potremmo assistere a un sensibile crollo che ci serve per poi ripartire e andare a rompere i massimi precedenti. Infatti uno scenario molto simile anche se inverso è successo nel 2015. Subito prima l'albing, il prezzo di Bitcoin è andato skyrocket per poi andare a ritracciare nella fase rossa, ciò vuol dire nella fase post albing. Ragazzi la situazione a mio modo di vedere non cambierà neanche questa volta, infatti se non è prima dell'albing è subito dopo l'albing ma un crollo ci deve essere. Ma adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo nell'ultime 24 ore. È evidente che nell'ultime 24 ore abbiamo una positività sui mercati, infatti gli altcoin che spiccano sono nel settore intelligenza artificiale. Abbiamo Jasmine Coin che guadagna un 60% negli ultimi 24 ore, Agix, Warcoin, abbiamo addirittura anche Render e GRT. Tutte queste coin stanno facendo performance a doppia cifra. Mi stavo scordando FET ma anche qui abbiamo un 13,8%. Ma infatti andiamo a vedere cosa sta succedendo su Bitcoin. Avendo visto e contestualizzato che stiamo vivendo una fase di positività nell'ultime 24 ore, se andiamo su un grafico a 4 ore possiamo vedere che Bitcoin sta scorrendo esattamente e ha confermato la parete inferiore per quanto riguarda questa zona di compressione. Zona di compressione che si è formata a partire dal 14 febbraio 2024, giorno in cui moltissimi di voi erano a cena fuori con la ragazza o il ragazzo, dato che era San Valentino. Intanto Bitcoin ha preso un po' di ferie anche lui. Infatti possiamo vedere che ha confermato durante il 17 febbraio un rimbalzo sulla parete, quella che si è rivelata, la parete inferiore di questo rettangolo di compressione. E fino a quando noi non vediamo una rottura o nella parete superiore che si trova in zona 52.400 dollari o della parete inferiore, ragazzi, la situazione e soprattutto la migliore strategia per andare ad operare all'interno del mercato cripto è quella di tradare in range. Tra l'altro, a proposito di tradare il mercato cripto, vi ricordo che io sono main partner di Bitget. Bitget mi ha rilasciato questa promo esclusivamente per voi, dove se depositate 100 USDT avete la possibilità di ricevere 100 USDT di trading bonus. Infatti il bonus però faccio presente che è disponibile soltanto per i nuovi utenti, ma soprattutto ragazzi che completano il deposito entro le 72 ore di registrazione. I premi saranno distribuiti entro sette giorni elaborativi dal termine dell'evento e il termine dell'evento, ragazzi, sarà il 29 febbraio. Però guys, vi consiglio di iscrivervi adesso in massa dato che abbiamo pochissimi posti. Tornando con la visuale di Bitcoin, possiamo vedere che la situazione è questa. Andiamo a tradare in range. Per quanto riguarda l'aggregated open interest, possiamo vedere che abbiamo ricorretto da un massimo toccato circa 14,74 billion dollar e attualmente ci troviamo sotto la soglia dei 14 billion dollar. Questo che significa? Significa che il mercato delle posizioni a leva si sta un po' allentando la presa. E questa è una cosa positiva perché ci sono due modi per allentare la presa per quanto riguarda questa tipologia di mercato e questa tipologia di metrica. O avviene un dump o un pump che liquida dal mercato tutte quelle posizioni over esposte, soprattutto con leve folli, e di conseguenza va a creare un sacco di liquidazioni. O comunque sia abbiamo uno scarico graduale. Ciò che voglio vedere io è uno scarico graduale. Infatti ci troviamo all'incirca in zona 51.870 dollari e vi faccio presente che ci trovavamo all'incirca in queste zone il giorno 20 febbraio 2024. Il 20 febbraio 2024 avevamo però 500 milioni di controvalori in più sull'aggregated open interest. Ciò vuol dire che si sta allentando un po' la presa per quanto riguarda l'asset di Bitcoin su il mercato a leva. Ed è una cosa positiva. Passiamo però ad Ethereum. Ethereum perché sta verificando soprattutto sul quattro ore un ritest dei massimi che non vedevamo ormai dal lontano. Andiamo a prendere il grafico a one week. Infatti attualmente ci troviamo in zona 3.031 dollari. Abbiamo quasi sfondato i massimi precedenti e gli ultimi livelli che abbiamo toccato in questa zona, soprattutto in una ripresa rialzista, era marzo 2022. Che poi dopo abbiamo fatto il grande crollo che ha portato Ethereum ad un minimo di 887 dollari. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete accumulato all'interno di quelle zone. Io per fortuna ho accumulato Ethereum in zone discount rispetto alle zone precedenti, però rispetto alle zone in cui ci troviamo adesso. Però non a quei livelli, sfortunatamente. Sono entrato in zona 1.500, sono entrato in zona 1.200, ma non in zona 800 dollari. Comunque, al di là di questo, tornando a noi e tornando su un grafico daily, possiamo vedere che non è male il grafico daily di Bitcoin. Soprattutto se proviamo con una chiusura e confermiamo una chiusura sopra questi livelli. Qualora noi dovessimo chiudere sopra i 3.000 dollari, 3.020 dollari, allora potremmo assistere ad un incremento del prezzo di Ethereum stesso. Poiché confermiamo un massimo sul daily e una rottura di questo livello, che è stata la chiusura precedente più alta, ovvero 3.014 dollari. Passiamo però con l'andare a vedere come si sta comportando il mercato. In realtà l'abbiamo anche già visto attraverso CryptoBubbles. Infatti i top gainer sono tutte criptovalute del settore artificiale. Infatti abbiamo a partire da Fetch.ai, che guadagna un 14,63% nell'ultime 24 ore. Poi abbiamo The Graph Render, Warcoin, Singularity Network e JustMeCoin, che JustMeCoin guadagna un 60% in soltanto 24 ore. Passiamo con una notizia molto importante per ciò che riguarda la situazione Bitcoin-ETF in zona statunitense. Vediamo che HODL, il ticker HODL, che per chi non sapesse è il Bitcoin a replica spot ETF in zona statunitense proprietario di Banek, ha ricevuto un inflow che ha ovviamente portato ad un volume di 14 volte superiore nella giornata di ieri, un volume di trading 14 volte superiore rispetto alla giornata precedente. Che significa? Andiamo a vederlo. E soprattutto da cos'è che è portata questa enorme volatilità, incremento di volatilità su questo ticker? I volumi su HODL, l'ETF di Banek, ha fatto registrare volumi di 22 volte superiori alla media dei giorni precedenti. Si è passato da 14 milioni di media a oltre i 400 milioni di dollari nella sola giornata di ieri. Questo in concomitanza di un taglio importante alle commissioni che sarà operativo oggi. Infatti la strategia di Banek è stata quella di andare a tagliare per un periodo ristretto di tempo e limitato di tempo, le commissioni per invitare nuovi partecipanti e nuovi investitori nell'investire nel proprio strumento a replica spot su Bitcoin. Molto interessante. Questa strategia infatti ha portato a superare Fidelity. Diciamo che Banek è riuscito a superare Fidelity in AUM, ovvero Asset Under Management. Negli ultimi ore una notizia che ha portato un'enorme positività, soprattutto sul mercato del criptovalute, è che Tether Treasury ha mintato circa un miliardo di dollari, il che significa che probabilmente vedremo nel futuro di breve termine, nel futuro di breve e medio termine, un riversare di questo capitale all'interno del mercato cripto. Sapete benissimo che tendenzialmente questi capitali, nuovi capitali in entrata, passano prima per Bitcoin per poi passare ad le altcoin maggiormente capitalizzate, ma sicuramente un incremento, un'iniezione di liquidità così enorme, così ampia, stiamo parlando di un miliardo di dollari, che ovviamente porta buying pressure su tutti gli asset cripto. Guys, vi ricordo per l'ultima volta che c'è la possibilità di iscriversi a BitGet, uno degli exchange più liquidi attualmente in disposizione, dà la possibilità di ricevere 100 USDT su un deposito di 100 USDT. 20% di sconto sulle trading fees a Bita. Da Ryan è tutto, ci vediamo nel video di domani. Bye!